Sì, sai, gli altri bambini qui mi hanno detto che ti vorrebbero vedere anche loro Ma il papa non può andare da tutti, ha troppe cose da fare Lo so Hai... hai qualche altro santino per i miei amici No, non qui con me Ma te ne manderò un po' e tu potrai distribuirli Santi, gli posso dire che questa carezza è anche per loro Che cosa bella hai detto Sì, per favore, sì, diglielo Il re leone vi ha commosso fino alle lacrime Che cosa romantica Bene, preparatevi a piangere dalle risate Arriva il terzo episodio della saga del re leone Vuoi tu concedermi l'onore di diventare mia moglie? Un film tutto nuovo E con tutti i personaggi più amati di sempre Scusa Avresti metterci un bel segnale di pericolo Tu cerchi l'Hakuna Matata Con una patata? Il re leone 3 Hakuna Matata Da marzo solo in videocassetta e Disney DVD Vedrete che meraviglia lì dietro Era il mio posto segreto Si deve essere sparsa la voce, eh? Eh, nella vita non si sa mai cosa c'è dietro Abbiamo un filosofo Dai, fatti un Kinder Cereali Cioccolato? Buonissimo Eh, ma chissà cosa c'è dietro Dietro ci sono i cereali Cinque cereali, un mare di latte e buon cioccolato Lo sai che i cereali li attaccano uno per uno? Oh, però Kinder Cereali Semplice Come lo vedi I primi capelli bianchi mi deprimono Io passo al colore Ma con delicatezza Con Garnier Movida senza ammoniaca L'unica tono su tono alla crema di albicocca Brillantezza, morbidezza E addio primi capelli bianchi Garnier Movida mi sta bene e mi fa star bene Garnier Movida La più delicata delle colorazioni Garnier Mi piaci Brio Blu Mi piaci Sempre, sempre più Perché piace? Perché è leggermente frizzante È buona E perché depura È rocchetta Sempre più Mi piaci anche tu Brio Blu Mi piaci tu Oh che odore Ma la mamma ha un nuovo trucco Nuovo GLED Micro Spray Bagno Piccolo, pratico e si applica alla parete Un solo tocco e che profumo Nuovo GLED Micro Spray Bagno Praticamente geniale E per gli altri ambienti della tua casa GLED Micro Spray Basta un solo tocco GLED Micro Spray Bagno Bayliss, fate scegliere i vostri sensi. Perché Citroen C3 l'unica auto estera più venduta in Italia? Sarà per le dotazioni di serie e per l'esclusivo cambio da Formula 1 o per il motore HD il più economico e potente della sua categoria? La risposta è in tutte le concessionarie Citroen, anche venerdì e sabato. Original Marines Spring Summer Collection. Giubbino in twill di cotone a 29,90€. Felpa in cotone a 11,50€. Original Marines, l'emozione dello stile, il vantaggio del prezzo. Il cioccolato al latte è cambiato. Cremoso Novi, latte e panna della Normandia e nord della Francia. È garantito. Stop ai capelli crespi. Il nuovo Sansil Calo e Serum rende i tuoi ricci ben definiti. Così la prossima volta. Sansil Calo e Serum, libera dai capelli crespi. Mi piaci Sempre, sempre più. Mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, Brio Blu. Brio Blu. Mi piaci tu. Anche i capelli hanno sete. Di setali con garni ultra dolci e al latte vegetale idratante. Andiamo? Sì, vai. Ci vuole la password per entrare. Ordi. Oggi si piglia una bella lavata di capo. Chi c'ha i gradi? Non ha il polso. Ma non era con i denti? Il pane? Possibile. Che pensi solo a mangiare? Che non è male, eh. No, io dico. No. Però, no. E sto meno forte. Dichi! Alessia Marcuzzi, Ettore Bassi, Roberto Farnesi, Elisabetta Canalis, Milena Miconi e con Paolo Villaggio. Sì, te ne saluto tutti. In Prima TV, Carabinieri 3. Da martedì alle 21 su Canale 5. Da Rim in London, il nuovo mascara Extreme Definition. Con applicatore a pettine. Separa e definisce le ciglia. Una a una. Inizia la rivoluzione. E tu? Da che parte stai? Nuova Extreme Definition Mascara a pettine. Rim in the London Look. Io sono Manuela Leggeri, capitano della Nazionale. E lei è la mia nipotina. Me la porto all'allenamento. Voglio che si innamori dello sport perché è un modo sano di crescere. Lei dice che presto insieme vinceremo tutto. Intanto, insieme facciamo la stessa merenda. Kinder fetta al latte è il sandwich al latte, miele e parli spagna. Per chi vuole nutrirsi bene e per chi vuole restare leggero. Kinder fetta al latte, il sandwich al latte. Cerca il videogioco e le magnetomagie di Totò Sapore in Kinder Pingui e Kinder fetta al latte. Tagli del 30% su tutti gli Oscar mondadori, fino al 3 aprile. Guardare in faccia il proprio destino non è facile, anche perché il futuro non si vede mai. Ah Matteo, quella di si rigira come un pedalino. Io sto parlando di un viaggio vero. Io non lo so che voglio, non lo so. Io voglio avere coraggio. Ti saresti partita senza nemmeno avvertirmi. Quando fai così, sei proprio un ragazzino. Un gruppo di amici in vacanza è come un manipolo di soldati spediti in guerra. Buttiamaci! Se torneranno a casa, saranno pieni di medaglie e cicatrici. Vorrei svegliarmi la mattina e avere 30 anni per vedere che ne sarà di noi. Capelli secchi, difficili da lasciare. Io dico stop. L'Oreal crea lo shampoo Elvive Liss Intense al Nutrileum. Per capelli quattro volte più lisci. Associazione di un olio nutriente e di un attivo lisciante, il Nutrileum nutre, distende e disciplina i capelli. Il vostro shampoo fa altrettanto. Capelli quattro volte più lisci. Linea trattamento Elvive Liss Intense dell'Oreal Paris. Ma i vostri capelli sono stati così sensuali. Perché voi valete. Collanti in là e creventi denari. A soli 3,50 euro. In tutti i negozi Calzedonia. Silhouette Donna. Non perdere l'orologio moda con il quadrante in nero e in grigio metallizzato. Inoltre via i chili di troppo. Con la dieta anticellulite che drena e disintossica. Oppure perdi 3 chili in 2 settimane con la dieta di primavera. Liposuzione e chirurgia per avere glutei perfetti. Silhouette Donna e l'orologio moda. La caria è un problema. Dovevi pensarci prima. Con l'azione dello xilitolo, Vividen Xilit aiuta a prevenire la caria. Vividen Xilit per denti più sani. Mi dai quello dog? Dai, non farlo, ti farà schifo. Dicono tutti che la cioccolata non va con gli hot dog. Sì, sono due cose diverse. Perché tutto dovrebbe essere uguale? Guarda il mio culo piccolo nei miei jeans enormi. Stanno bene insieme, no? Sì. Andrà bene anche questo. Il caso si presentava difficile. Lui non aveva potuto resistere. Ma le indagini si sono indirizzate subito verso Lilly. Sentivo che la pista era quella giusta. Ma sarà stata lei? Con l'irresistibile coordinato natural di Lilly. Un vero trattamento di bellezza che colpisce senza scampo. Un'arma invisibile sotto qualsiasi abito. Un comodo e sensuale mix di cotone e microfibra senza cuciture. Oppure... Oppure i sospetti vanno verso loro. Chi veste zenzero sa che difficilmente un uomo può sfuggire. E' una delle novità 2004 di Lilly. Irresistibile con il ricamo multicolon su una base tulle elasticizzato a motivi cashmere. Riflessi morbidi. Un fascino leggero. Dinamico. Ma gli indizi portano anche a lei. Impossibile non restare ipnotizzati dal tulle elasticizzato stampato a motivi orientali. L'intimo che diventa accessorio moda. Attuale. E' inconfondibile con l'esclusivo monile a forma di antica moneta. Qualsiasi resistenza è inutile. Se lei veste salvia di Lilly. Non mi era mai capitato un caso così difficile. Impossibile decidersi. Colpevole di seduzione. E' natural di Lilly. O la nuova collezione Primavera 2004 aromi di Lilly. Con le sue magiche atmosfere medio orientali. Che si fondono con lo stile e i tagli italiani. Scoprite anche voi con Lilly il piacere di essere donna. Anche i capelli hanno sete. Dissetali con garnier ultradolce a latte vegetale idratante. Anche i capelli hanno sete. Dissetali con garnier ultradolce a latte vegetale idratante. Il romanzo della mia giovinezza con i pensieri di un tempo. Gianni. Un romanzo. Vorrei un mio lavoro, una mia vita. Ma Sergio non la pensa così. Parla di Chiara, ancora vattene. Lavorare è una cosa seria. Non è un passatempo per signora annoiata. Emma si è fatta male. Si è rampicata su un albero, caduta e ha battuto la testa. E' il medico che dice? Non lo so, è sopra con suo marito. Dottore, siamo sicuri che la bambina ha ancora rischi? Hai rivisto Gianni, vero? Anche se fosse non ti riguarda. Sai che mi riguarda se il mio amore mi tradisce? Sei fuori strada. Però avete passato tutto il pomeriggio insieme. Alessandro Gasman, Anna Valle, regia di Antonello Grimaldi. Le stagioni del cuore. In prima tv assoluta, mercoledì alle 21, su Canale 5. Renault Clio Ice Con climatizzatore ABS WBEC da 9.350 euro E in più finanziamento 36 mesi, tasso 0, anticipo 0. Offerta valida fino al 31 marzo 2004. Can you resist it? Ti so. Allora io vado, lascio tutto a voi. Finalmente in pensione? Albergo, 5 stelle. Mi dovrete sostituire. Ah, ma è uno scatto di carriera. In una riunione di condominio. Di condominio? Intanto quelli con le ali, l'ascensore non lo devono pagare. No, caro avvocato, io l'ascensore non lo voglio pagare. Ci tengo. Anch'io, io voglio pagare un po' di più. Io non so, lei ma non ci sto a capire più niente. Questa è una riunione di condominio e vanno tutti d'accordo. Senti, ma perché non riceviamo un bel caffè? Ma le pare il momento qui davanti allo stormo? Se creme il gusto, ogni momento è quello giusto. O dice pure Sandro. Certo, questo caffè è proprio buono. È speciale. Avanti, riprendiamo. Metta verbale l'allargamento del balcone dei signori. Romeo. E Giulietta. Ah Paolo, ma sono quelli famosi? Chi? Eh, gli amuleti e i capacchietti. Amuleti e i capacchietti, Montecchi e i capuleti. Ma chi sono? Chi? Gli amuleti e i capacchietti, i capalletti. Scriva, calamari e gamberetti. Dopo il caffè. Sono pesanti. Eh? E levi i gamberetti. Eh? Ci sono persone che preferiscono ascoltare se stesse, piuttosto che ascoltare le parole degli altri. Sono persone che non si mettono in mostra molto spesso, ma quando lo fanno, ci ricordano che quando decidi di scendere in pista, anche se qualcuno può dubitare di te, parole come non posso, non ci riesco, o è impossibile, non esistono. E ci ricordano tutte le volte di continuare a credere che impossible is nothing. Perché quest'uomo sta sorridendo? C'è un codice nascosto nelle opere di Leonardo. Dan Brown, Codice da Vinci, il thriller dell'anno. Mondadori. Infostrada ha una sensazionale offerta da comunicare a tutti. Per questo ha bisogno di un grande testimonio. Lo stiamo cercando con tutte le nostre forze. Deve far sapere a tutti che con Happy Night chiami gratis la sera dal telefono di casa. È una domanda. È tutto. Grazie. Happy Night chiami gratis in tutta Italia dalle otto di sera alle otto del mattino. Chiama Infostrada al 159. L'Isoform. Pulito sicuro da più di cento anni. Nuova gamma Opel Fashion Line. Niente ti dona di più. Quattro modelli con equipaggiamenti e prezzi straordinari. E oggi in più finanziamento in quattro anni a tasso zero. Hai fatto i compiti? Sì. Ehi tu, bambina! Lo sai che non si dicono le bugie? Non lo faccio più, giuro. A Soresina è vietato di dire bugie. Latteria Soresina. Verità pura e semplice dal 1900. Solo ieri c'era l'Eros. No, non può finire. Libera l'emozione. 9. Tutto l'Eros che vuoi. Una mamma sa sempre cosa vuole il proprio bambino. E riconosce tutti i suoi segnali. I succhi yoga pere pesca contengono il 70% di frutta. Poche cose così genuine piacciono tanto ai bambini. Continua a dargli il meglio. Anche i capelli hanno sete. Allora bevono. Bevono latte vegetale. Garnier Ultradolce crea il nuovo shampoo idratante al latte vegetale. Per una morbidezza irresistibile. Senza appesantire. Garnier Ultradolce shampoo e balsamo al latte vegetale idratante. Garnier. Ma è Alice. Tutti vogliono Alice. Specie adesso che accelera gratis fino a 640 kilobit al secondo. Però, vedi bene? Ma, sto imparando. Nippon, non posso far a meno di questo cioccolato. Nippon, croccanti cereali in un mare di cioccolato al latte. Nippon. Mordi l'attimo. Am I red passion? Averna, il gusto pieno della vita. Il ristorante La Zoia, del Grand Hotel dei Doji, a Venezia. Il nostro piatto è la pasta fasioi in veneziana. Il segreto è il Dado Star classico. È il sapore che ci vuole. Dado Star, il tuo segreto in cucina. Per me. Dopo un profumato bagno di bellezza, niente meglio di un caldo abbraccio. Lo sai che era da tempo che non mi sentivo così. Così seducente? Oggi con i tesori d'Oriente è facile ritrovare avvolgenti sensazioni che ci riportano a terre lontane. Come quella che evoca la mia intrigante essenza alla mirra. Intensa e speziata, una profumata esotica carenza. Tesori d'Oriente è una linea di prodotti originali dalla lavorazione artigianale. Ricchi di oli essenziali, tonificanti e rivitalizzanti. Come l'ambrato e armonioso muschio bianco. Un aroma che accarezza la pelle con un profumo inebriante. Oppure il nuovo delicato bagno crema al fior di loto con latte da caccia. Che avvolge il corpo in una profonda sensazione di benessere. È da millenni che si conoscono le virtù di queste essenze purissime. E oggi i tesori d'Oriente le riscopre con EGYPTUS. Dà la profumazione dolce e avvolgente per ricreare un'atmosfera davvero indimenticabile. E la linea tesori d'Oriente comprende il bagno crema, il profumo, la doccia crema e la crema per il corpo nelle profumazioni mirra, EGYPTUS, muschio bianco e molte altre. Ricche e preziose già nella confezione. Tesori d'Oriente, riscoprite i luoghi della piacevolezza e del benessere. E' quanto la prima volta. Ha visto? Sono qua. Ecco, ritorni con qui e qua. Prendi. Sono momenti assolutamente drammatici. L'ho detto, hai? Chi la dico? Lei? Io? Grazie, 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 signori. Siamo! Tutte le stanno! Non sta ancora benissimo. Zelig Circus. Domani alle 21.15 su Canale 5. Oh, quando sei a due atti me lo dici? Perdita di elasticità? Chante Claire Fibre moderne. Igenizza, teodora e ringalluzzisce i capi sintetici. Chante Claire. Oggi la nonna si ha fatto i maltagliati al ragù di quattro salti in padella con la pasta fresca all'uovo. Non hai fame? E si vede che non ha fame. Quattro salti in padella Findus, quelli buoni per davvero. No! Ma ma ma! Regina, carta camomilla. La nuova carta igienica con quattro soffici veli e una profumata essenza di camomilla. Quattro volte soffice. Fiorella mannoia. A grande richiesta il cd e il dvd della sua tournée più bella. Concerti, il nuovo album di Fiorella mannoia. Fiorella mannoia. Colgate, leader mondiale nell'igiene orale, vi ricorda che una visita dal dentista è consigliata almeno due volte l'anno. E con Colgate Total sorriderete tutto l'anno. Informatevi sull'efficacia di Colgate Total. Chiamate l'886 0010. Colgate Total, clinicamente testato dall'ADI, Associazione Dentisti Italiani. Fai che dopo! Ragazzi, vostro latte e la vostra frutta! Come al solito. Fruix! Lo yogurt con latte, frutta frullata e gli esclusivi fermenti lacto provita selezionati da Danone per far star bene tutta la famiglia. Danone Fruix. Non solo latte, non solo frutta. Nuovo Siemens MC-60 con fotocamera integrata. Siemens Mobile. Lei è una che vive solo degli istanti in cui tradisce. Non so nient'altro di lei. So che è entrata nella mia vita e che non vuole più uscirne. Nuvenia Good Night Ultra. Per affrontare anche la situazione più estrema. Dormire. Nuvenia Good Night Ultra con tecnologia Flex System. Segue i tuoi movimenti per tutta la notte, senza fare una piega. Extra delicato. Dolce sulla pelle. Nuovo deodorante Neutro Robbers extra dolce con vitamina E. Che deodora e protegge la tua pelle. Nuovo deodorante Neutro Robbers extra dolce. Approvato ogni giorno dalla tua pelle. Uomini di pensiero si interrogano con noi su aspetti cruciali della nostra epoca. Maurizio Costanzo Show. Per emozionarci e riflettere insieme in quattro serate ad alto contenuto. La storia siamo noi. Guardare il cielo. Essere o apparire. Comunicare. Temi importanti al Maurizio Costanzo Show. Per quattro serate ad alto contenuto. Ogni sera fino a venerdì alle 23.30 su Canale 5.